La lettera delle maestre della scuola dell'infanzia di Salita Cappuccini, il video corredato dai numeri del presidente del consiglio d'istituto del comprensivo Como Borgovico. A poche ore, dall'audizione a Palazzo Pirelli del sindaco Alessandro Rapinese e del provveditore Giuseppe Bonelli, tornano a farsi sentire le voci delle famiglie e del personale delle scuole che verranno chiuse, come previsto dal piano di razionalizzazione del comune di Como. Voci che non solo esprimono la loro contrarietà, ma forniscono anche dati e immagini dei due plessi del centro storico destinati allo stop, la primaria di Via Aperti e l'asilo Carluccio. Questa decisione comporterebbe uno spreco di denaro pubblico, del denaro pubblico già investito in queste scuole, e avrebbe conseguenze negative su tutte le altre scuole del territorio. In tutte le scuole del comprensorio, e in particolare in queste due, sono stati investiti tanti soldi negli ultimi anni, in particolare negli ultimi tre anni, grazie a bandi vinti dal PNRR e da fondi europei. Stiamo parlando di una cifra solo per queste due voci che supera i 386 mila euro. Questi fondi sono stati usati per fare dei lavori dentro agli immobili o per prendere degli arredi su misura, per esempio, quindi non sono trasportabili in altre scuole. Chiudere queste scuole vorrebbe dire andare a perdere tutti questi soldi appena investiti. Il presidente parla anche delle iscrizioni alla materna di Via Volta, che da anni sono superiori alla capacità stessa della struttura. Dall'infanzia di Via Salita Cappuccini, altra struttura destinata alla chiusura, intervengono invece le maestre con una lettera destinata alla preside, al provveditore e ai genitori, in cui si parla di una didattica arricchita dalla qualità degli spazi nei quali si svolge. Oltre ad illustrare timori legati al possibile accorpamento con la primaria, precisano siamo preoccupate che tanti materiali acquisiti con i fondi europei non potranno essere trasferiti nella nuova sede e ancora aggiungono non siamo a conoscenza di un piano di trasformazione che preveda l'ottimizzazione delle risorse a fronte di un'offerta formativa rispettosa dell'utenza. Intanto sul fronte politico torna ad opporsi alle chiusure Stefano Molinari, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, che si è confrontato con genitori e docenti e torna a parlare di scelta immotivata e affrettata dell'amministrazione. Chiudere queste scuole non solo significa privare i bambini della loro istruzione, ma anche spezzare quel legame profondo tra la scuola e il territorio che consente di crescere in una comunità coesa e consapevole, spiega. Continueremo a batterci a tutti i livelli, non si possono accettare conclude scelte che ledono i diritti degli studenti e minano la stabilità del personale scolastico.